Mister, complimenti, ottimo approccio al match contro un Empoli che rispecchia il carattere del suo allenatore Nicola, non era facile neanche questa sera, come giudica la prova dei ragazzi? Hai detto benissimo, non era facile perché l'Empoli veniva da tre sconfitte, oggi ha preso la quarta qui a San Siro ma aveva già perso qui col Milan e non ha mollato mai. Ha perso col Bologna che probabilmente insieme a noi è una delle squadre più in forma del campionato e non ha mollato e quindi anzi ha tenuto testa al Bologna fino all'ultimo secondo. Era una partita pericolosissima, come sempre quando si rientra dalle soste nazionali, abbiamo avuto tantissimi giocatori fuori, addirittura la prima settimana abbiamo lavorato con 3-4, quindi ancora più merito ai ragazzi per l'approccio e l'applicazione che hanno messo. Secondo noi, nella piccola riunione post-gara che abbiamo fatto con lo staff, addirittura la squadra ha fatto meglio nel secondo tempo, perché nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, si è visto nella fase di possesso con azioni, il gol, il palo di bastoni, abbiamo creato altre situazioni. Abbiamo concesso un po' troppo per quelle che sono le nostre caratteristiche all'Empoli, che comunque ha fatto un'ottima partita, nel secondo tempo abbiamo serrato ancora meglio i ranghi, abbiamo concesso veramente il minimo indispensabile all'Empoli e poi, come hai detto tu prima, i ragazzi subentrati hanno messo insieme una bellissima azione per fare il secondo gol. Bellissimo, anche gol di Di Marco, di Controvalso, su enesimo assist di bastoni, grande partecipazione di tutti come ormai ci avete abituato, c'è tanto lavoro dietro proprio per ottenere il massimo di questi giocatori, tagli, inserimenti a sorpresa, riempimento dell'aria, arrivate a finalizzare sempre con grande creatività e naturalezza. Sì, il lavoro è quello che facciamo in settimana, ormai i ragazzi hanno capito quello che serve, quello che vogliamo, cerchiamo sempre degli aggiustamenti per fargli capire dove sono gli spazi da attaccare o i posizionamenti da prendere, però poi è chiaro che in campo vanno loro, sanno interpretare al meglio, si conoscono e si divertono in allenamento e tutto questo lo riportano in campo e stiamo facendo insieme un percorso straordinario, testimoniato dai meravigliosi numeri che abbiamo in questa stagione. Domanda da studio, Marco? Sì, buonasera mister, complimenti per la vittoria, importante, meritata contro un avversario che è venuto a San Siro con qualità, con personalità, come diceva lei, come diceva prima lo stesso Federico, insomma state provando soluzioni differenti, l'abbiamo vista anche questa sera, continuare a dare stimoli diversi alla squadra, ai giocatori per continuare a crescere, continuare ad evolvere, penso che diventerà fondamentale in queste ultime otto gare, per mantenere sempre alta la concentrazione fin dall'inizio, come abbiamo visto questa sera, in partite come le prossime che dovete affrontare, che comunque hanno insidie, per cui mantenere alta la concentrazione da subito diventa fondamentale. Sì, hai detto benissimo, visto poi quello che sta succedendo nella parte bassa della classifica, noi dobbiamo affrontare un po' di quelle squadre, la bagarre per non retrocedere rende queste squadre ancora più pericolose. Addirittura, come hai detto giustamente tu, l'Empoli è una squadra che non si è arroccata dietro, ma ha giocato a qualità, nel primo tempo gli abbiamo concesso un po' di spazio, soprattutto sulla loro sinistra, dove manovrano bene. Abbiamo contenuto, però abbiamo anche pensato che fosse necessario a fine primo tempo spiegare ai ragazzi come accorciare le distanze, come non concedere campo. Poi quella che è la nostra fase di possesso, come dicevo prima ormai, è lasciata alla libertà e alla fantasia dei ragazzi. Chiaramente il nostro primo pensiero è che la squadra possa sempre mantenere equilibrio. Il centrocampo è uno dei segreti di questa squadra. Vogliamo, mister, regalare un elogio pubblico a Mkhitaryan, sempre presente, un uomo ovunque. Stasera, giustamente, il pubblico le ha regalato una standing ovation. Parlare di Mkhitaryan, non dico che è superfluo, ma è innanzitutto un uomo fantastico. Dietro quest'uomo c'è un grande calciatore che ci stiamo godendo qui all'Inter. Fa prestazioni, ma è un piacere vederlo allenarsi, parlare di calcio, sicuramente ben voluto da tutti i compagni. In ogni caso, oggi c'è stata una grande prestazione anche di Barella. Cianna Loglufink è stato in campo e per uno staff, ovviamente queste non sono parole di Simone, ma posso tranquillamente esprimere il pensiero di tutto lo staff. Poi entra Slani e addirittura Puntella ancora meglio il centrocampo. Quindi per noi questo è motivo di orgoglio. Grazie, mister. Grazie a voi. Grazie a voi.